che costruisce la vostra mente, la via della conoscenza attraverso Attilio e Franca. La seconda tematica di cui parleremo è quella relativa al concetto di gratuità che si può comprendere solo quando la disconnessione si impone come forza che manda in tilt le connessioni che costruisce la vostra mente per creare il vostro io unitario. Gratuità è la vita che si svela ed è l'incontro con la realtà dell'accadere.